Ciao a tutti, eccoci qua con il secondo video della serie I Love Animals. Questa volta ho realizzato due tipi di gatti, uno più stilizzato e diciamo uno più giocoso, più cartonimato. Se non avete visto il primo che è dedicato al cane vi lascerò il link alla fine di questo video. Comincio dal gattino stile cartonimato. Ho già applicato una base trasparente protettiva su tutta l'unghia, adesso con lo smalto bianco faccio una specie di cerchio. Sempre con lo smalto bianco creo due triangolini al lato della testa per creare le orecchie. Io ho deciso di fare gli occhi color celeste, quindi con lo smalto celeste faccio due puntini per creare gli occhi. Con lo smalto rosa faccio un fiocchetto sulla testa del mio gattino. E con un ruolo più chiaro crea un asino e l'interno delle orecchie. Con lo smalto nero faccio i baffetti. E sempre con lo smalto nero contorno al mio fiocco. Con lo smalto rosa faccio un asino e l'interno della testa del mio gattino. Una volta che lo smalto blu degli occhietti è completamente asciutto faccio due puntini bianchi e all'interno di quelli bianchi due puntini neri piccolissimi. Per creare il gatto nero stilizzato è davvero molto semplice. Dopo aver applicato una base trasparente prendo appunto lo smalto nero e creo il corpo facendo una goccia. Per creare la testa faccio un semicerco e poi piano piano lo riempio, come state vedendo dalle immagini. E ai lati della testa faccio due puntini per creare le orecchie. Faccio la coda e il nostro gatto è completato. Adesso aggiungo qualche dettaglio, cioè con il marrone faccio l'albero su cui è appoggiato il mio gatto. E con il giallo creo la luna e delle stelle. E questi sono i risultati finali, spero che vi piacciano. Scrivetemi qui sotto nei commenti quale sarà l'animale che volete vedere nel prossimo video. A presto, ciao!